Questo libro nasce dalla volontà di rendere disponibile Dante anche a un pubblico che non sia ultra specialistico. Si tratta di lasciar parlare Dante alle nostre generazioni, soprattutto ai giovani. Questo libro infatti è nato in gran parte dalla scuola in un contesto in cui la filologia è lo strumento per comprendere e non lo scopo. La scuola rischia talvolta di filologizzare troppo con un'attenzione al testo che dice tutto sul testo ma non lascia parlare il testo. Questo è evidente soprattutto nelle parti di Daskalik che sono le meno lette a scuola. Io ho tentato appoggiandomi a contributi di filologia ma anche di storia della cultura, storia della filosofia, storia della teologia medievale di affrontare le parti del purgatorio e del paradiso che risultano un pochino più indigeste e dimostrare che anche esse possono dire molto ai nostri giovani, alla nostra generazione, nel nostro tempo. Questo testo intanto ha una storia perché raccoglie diversi contributi pubblicati in precedenza su alcune riviste come Sinesis e Comunio in edizione internazionale e raccoglie contributi in cui Dante viene presentato come poeta teologo, cioè poeta che attraverso la poesia dice qualche cosa, comunica qualche cosa, non quindi catechismo in versi o teologia in versi ma poesia che si fa comunicazione, che si fa pensiero perché il pensiero è bello e la bellezza è un attributo di Dio. Questo libro si rivolge a tutti gli appassionati di Dante, agli studenti, agli insegnanti ma anche a persone che hanno voglia, hanno desiderio di riprendere in mano uno dei grandi autori della letteratura italiana e di scoprire un aspetto che forse in passato è stato un po' abbandonato, quello cioè appunto del Dante pensatore, del Dante in cui la poesia è pensiero ed è pensiero nella bellezza. Dante è una figura essenziale per la cultura occidentale e oramai anzi per la cultura mondiale. vista la lettura che se ne sta facendo in molti paesi asiatici, a sorpresa la Cina, il Giappone, la grande cultura asiatica sta riscoprendo Dante. Dobbiamo avere il coraggio di tornare a leggere Dante come uno dei padri della nostra cultura, della nostra civiltà. Nel mio piccolo credo che questo libro sia anche una prova di questo. Molti capitoli che lo compongono hanno avuto l'onore di traduzioni inglesi, tedesche, persino polacche e slovene, a testimonianza di quale interesse vi sia per Dante, quando Dante torna a parlare alla nostra cultura e non era chiuso negli scaffali un po' impolverati della filologia accademica. Senza libro non c'è cultura. Come ha scritto qualcuno, il castello ha una sua armeria e le civiltà hanno le biblioteche, hanno i libri. Il libro è il fermarsi di una tradizione, di una riflessione, di un pensiero, perché possa ritornare presente e possa essere futuro. Quindi non è retorica dire che dobbiamo riportare il libro in qualunque forma esso abbia, non necessariamente quella cartacea, come spazio centrale di dibattito, di cultura, ma anche di rinascita di una civiltà come la nostra che sta mostrando ampi segni di stanchezza. Grazie a tutti.